Cassa Padana, molto più che una banca. Che differenza c'è tra bisogno e desiderio? I bisogni sono collegati alle necessità, quindi la necessità di alimentarsi, di vestirsi, di coprirsi, di avere una casa, quindi con un'importanza prioritaria. Invece i desideri sono collegati alle aspirazioni che ognuno di voi può avere e non per questo dobbiamo esaudire solamente i bisogni, ma anche i desideri sono molto importanti. Ciò che però conta di più è dare la giusta priorità, quindi prima vengono i bisogni e poi i desideri. Riguardo al prestito, c'è un limite di volte in cui se ne può chiedere uno? Non c'è un numero prestabilito di richieste che si possono fare. Ciò che è importante è che l'istituto di credito cerca di far capire è che un cliente non deve indebitarsi oltre le sue possibilità. Quindi le richieste possono essere molte, ma vengono concesse solamente se c'è la possibilità per il cliente di rimborsarle. Che età bisogna avere per pagare con il Bancomat? Il Bancomat è un prodotto collegato ad un conto corrente, quindi per utilizzarlo bisogna essere maggiorenni. Questo però non vuol dire che voi ragazzi che siete minorenni non potete utilizzare degli strumenti di pagamento, proprio perché ci sono delle carte prepagate proprio indirizzate a voi. Dagli 11 anni in su voi potete già utilizzare una carta prepagata. Qual è la differenza tra il prestito personale e il prestito personale finalizzato? Un prestito personale può essere finalizzato o non finalizzato. Qual è la differenza di queste due modalità? Nel prestito personale finalizzato il richiedente che richiede un prestito ha già un obiettivo di acquisto, che può essere una macchina piuttosto che un altro bene. E in questo caso la banca non concede i soldi al richiedente, ma manda il denaro direttamente a chi vende il prodotto. Invece nel prestito personale non finalizzato la banca concede un finanziamento senza vincolo di destinazione. Quindi vengono concessi questi soldi al richiedente e il richiedente potrà utilizzarli come meglio crede. Io un cane vivace che ogni tanto fa i disastri, posso assicurarlo? Assolutamente sì che puoi assicurarti. Anzi è consigliato assicurare i nostri amici a quattro zampe. Proprio perché in questa maniera con un'assicurazione che si chiama responsabilità civile veniamo tutelati noi e anche i nostri amici a quattro zampe. Grazie. Grazie.